Ciao a tutti, mi chiamo Milan Jonathan, è per me un onore fare parte quest'anno del Giro d'Onore Virtuale per ricordare i vari successi che si sono svolti in quest'annata un po' strana per tutti. Le due gare in particolare che mi piacerebbe ricordare sono i mondiali a Berlino di inizio di febbraio e gli europei elite, sempre su pista, applaudi pochi mesi fa. Da queste due gare ho tratto molti insegnamenti, mi hanno portato molte soddisfazioni quindi io ci darei comunque a ringraziare di cuore Marco Villa per i suoi insegnamenti e per tutta la passione che ci mette con i ragazzi. Un saluto, ciao!